servizio. Fino a domenica 27 ottobre nei comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, tutti in provincia di Grosseto, si svolge il Maremma Doc Festival, prima rassegna internazionale del documentario scientifico. La manifestazione propone la migliore produzione mondiale già selezionata e premiata nelle varie iniziative del settore svoltesi durante l'anno. Il festival di grande interesse culturale è organizzato dall'Aix, l'associazione italiana di cinematografia scientifica, in collaborazione con la comunità montana Colline del Fiora e con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri. I documentari in concorso sono più di 30, provenienti da tutto il mondo e realizzati sia da grandi produzioni come la BBC o National Geographic che da quelle minori. A decretare il migliore documentario sarà una giuria formata dal pubblico.